Vince la tredicesima finale del settore dell'Ulici Femminile a questo festival 2014 la Canottieri Osonia, Ilaria Corazza. Siamo allora con Ilaria Corazza, prima medaglia d'oro per la Canottieri Osonia, una medaglia d'oro a proda a grado. Raccontaci come è andata, Ilaria. Bene. Ovvero, traducici questo bene. Prima dall'inizio. Prima dall'inizio, senza sofferenza, contenta di questo risultato, a chi lo dedichiamo? Allora, al mio allenatore, alla mia società e alla mia famiglia.